Ciao amici, benvenuti a vedere, benvenuti a vedere, benvenuti americani, io sono Danilo Franco. Io voglio fare vedere cosa è successo al stadio dei Toronto Blue Jays in Toronto l'altra serata. C'era una coppia, I think se vedete la foto già avete un'idea di cosa sta succedendo. La coppia era la partita e erano innamorati. Sì, per farvelo sapere, nello stadio dei Blue Jays, dove è la foto, c'è l'hotel. Si può guardare la partita dall'hotel, che è proprio, vedi qui dietro, indorno al schermo, quello è l'hotel. E qui sono le stanze, indorno, si vede il schermo alla sinistra. But anyway, so, io ritorno qui, vediamo che è successo. So, guardiamo il primo video, la faccio ingrandire. Non ho fatto giusto. Non c'è niente di male. Il problema in pubblico, nel stadio, non è accettabile. Ho ragione. C'è un posto per tutto, pure questo, ovvio, ma qui c'è l'altro, ora ringrandisco. So, qui, questo in giallo è un poliziotto. Ups, è daisy. Io vi faccio vedere che il microfono va nella via. Io spero che l'hanno fatto. A questo punto, che difenza, ma non è venuto di più, non è venuto di meno. Eh, ragazzi, amici, tanto bello da vedere a Toronto. Veniti. Ci sentiamo presto. Ciao. Oh, in iscritti, clicca piace. Ciao.